Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Oggi parliamo di canale d'agordo perché abbiamo come ospite in studio il sindaco Flavio Colcerniano. Buonasera. Buonasera a voi. Quest'inverno è stato caratterizzato in realtà come gli ultimi mesi, in realtà molti mesi, dal problema dei rincari energetici sul fronte elettricità e anche sul fronte dei carburanti e poi anche dei combustibili per riscaldamento. A canale d'agordo quanto avete avvertito questo problema dei rincari, quanto vi è poi pesato negli equilibri economici del comune? Noi abbiamo avuto una fortuna. Proprio in questi anni abbiamo cambiato completamente quella che era l'illuminazione pubblica del paese, sostituendola tutta con luci a LED, il che ha comportato un risparmio notevole. Quindi avendo risparmiato molto in termini di consumo di kilowatt, questo rincaro non è stato così vistoso per quanto riguarda la corrente elettrica. Diverso è il discorso per quanto riguarda il gasolio e il riscaldamento degli edifici pubblici. L'anomalia poi stranissima è una cosa che ha colpito il paese di più da un punto di vista economico, è stata la siccità. Perché il comune di Canale d'agordo ha una centralina sul torrente elettrica e questa è quella che fa da polmone, da ossigeno alle finanze del comune. Quest'anno la produzione è stata più che dimezzata, proprio per la mancanza. Quindi diciamo che tra i rincari di gasolio, tra le mancate entrate, c'è stato un po' di danno. Ma per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica, con questa fortuna che avevamo cambiato tutta l'illuminazione del centro del paese e anche di alcune frazioni, il rincaro è stato assorbito, non è stato alla pari ma non è stato così catastrofico. Per quanto riguarda i progetti che state portando avanti, avete avuto qualche difficoltà magari legata alla difficoltà di reperimento o all'aumento dei prezzi dei materiali? Su quello l'aumento dei prezzi è stata una catastrofe per un sacco di progetti. Abbiamo progetti che sono pronti nel cassetto ormai da tre anni, con anche i finanziamenti, e adesso dobbiamo reperire le quote aggiuntive per poterli chiudere, proprio dovuti all'aumento dei prezzi. In particolare, che non riusciamo a chiudere, è il rifacimento del campo di calcio con gli anessi spogliatoi, dove rispetto a una previsione di 500 mila euro siamo arrivati a un aumento di costi di quasi 700 mila euro, quindi un aumento. Il grande posteggio all'entrata del comune di Canale d'Agordo, di cui proprio il paese ha bisogno, anche quello i costi sono lievitati, pur trattandosi essenzialmente di movimenti terra, ma dopo tutte quelle che sono le opere che riguardano interventi col calcestruzzo e col ferro, i prezzi sono impazziti. Abbiamo poi parecchi interventi che dovevamo finire di strade silvopastorali, che più che mai adesso diventano importanti per poter accedere al bosco, visto il disastro, il flagello che sta colpendo i nostri boschi, che è il Bostrico. Tutto questo fa sì che ci siano un sacco di lavori in sospeso, progetti già approvati, che sarebbero cantierabili, speriamo che i prezzi comincino a scendere, qualche indicazione c'è, appena sarà possibile partire con questi lavori. Ce ne sono parecchi, parecchi milioni di lavori che sono là in stand-by, speriamo che partano. C'è qualcosa che magari più vicino a chiudersi a livello di progettazioni? C'è qualcosa per cui manca veramente poco? Sì, adesso proprio, ma lavori ne sono stati fatti parecchi, quindi quelli che sono iniziati sono tutti a copertura. Adesso ci sono parecchi lavori proprio anche appaltati, chiaramente la dita sta chiedendo la revisione dei prezzi, ma io penso che con la buona stagione partiremo. Ad esempio, tutto è stato completato già il posteggio in fondo alla Valle di Gares, dove c'è la capanna Cimacomelle, posteggio a 120 posti. In quel progettone era compresi anche il rifacimento dei marciapiedi e dei dissuasori di velocità sulla piazza di Canale. Dovremmo rinunciare a qualcosa, perché avendo finito il posteggio, i prezzi sono quelli che sono, e anche là riprenderemo i lavori. Adesso, questa primavera, partiranno anche i lavori del completamento del bar nel località dei campi da tennis, in modo da, una volta fatto e finito, speriamo di trovare una gestione degli impianti da parte di privati, che già qualcuno si è fatto avanti a chiedere, quindi è un buon segno. Verrà completata adesso a primavera la strada di accesso alla frazione di Carfouin, partendo dal comune di Vallada, viene una strada percorribile anche da grossi automezzi, quindi questi sono tutti i lavori che sono iniziati e che stanno... Poi, lungo il torrente Liera, c'è tutta la sistemazione. Adesso stiamo procedendo all'esbosco delle piante ammalate. Mi era stato fatto notare da alcuni abitanti che è stata curata, in particolare la valle di Garesma. Questo è stato per una questione strategica di come è la proprietà dei boschi. La valle di Garesma, la proprietà del comunale, è molto più uniforme, quindi è più facile intervenire. Adesso partirà un progetto di esbosco nelle frazioni, nelle zone alte, anche là, proprio per togliere il più possibile le piante ammalate e bostricate. Quindi possono stare tranquilli quelli che hanno sollevato questo problema, che l'intervento del comune c'è e già abbiamo reperito anche le risorse, perché appunto in queste zone, non essendoci grossi proprietà del comune da poter far intervenire con lotti grossi che si pagano, occorre aiutare e quindi pagare l'intervento dell'impresa. Si trattava di reperire questi soldi. Adesso li abbiamo reperiti e quindi si procederà anche a eliminare quella bruttura di vedere tutte queste piante ammalate che rovinano anche il paesaggio. Però è un disastro che non colpisce solo il canale, ma il comune Mezzogaudio non è vero, è un disastro, però interveniamo anche là. Diciamo che il Bostrico è uno dei regali molto sgraditi del post-Vaia, una delle tante emergenze che chi è stato eletto dal 2018 in avanti ha dovuto fronteggiare, perché c'è stato Vaia, il Covid, l'emergenza energetica, l'emergenza materiale. Insomma, ci sono state un po' di situazioni difficili magari da affrontare. Lei è a fine mandato, quindi queste che ho detto se le è praticamente viste tutte da sindaco. Ho avuto un mandato abbastanza impegnativo, però avendo con me una squadra di persone molto valide ne siamo usciti fuori bene perché, devo dire, abbiamo risonato i conti del comune per cui l'amministrazione entrante, che non so se sarò io a guidarla o se sarà altri, si trova in ordine i bilanci comunali, interventi, tutto sommato da quel punto di vista Vaia è stata una disgrazia, ma contemporaneamente ci ha anche permesso di mettere in sicurezza grossa parte del territorio, perché di soldi ne sono arrivati. Quindi anche questo è fatto e si faranno altri. Sembra che la pandemia sia ormai ferma, o in recessione. Quindi sì, poi c'è stato anche un evento che è stato molto bello, è stata la beatificazione di Papa Luciani. Comunque ci ha impegnato moltissimo a livello di energie, nel far sì che il Paese potesse accoglierla degnamente. Quindi c'è stato un bel movimento in questi cinque anni. Ecco, proprio per quanto riguarda questa ultima cosa di cui abbiamo parlato, la beatificazione di Papa Luciani ha portato una volta in più a dire il vero gli occhi del mondo su Canale d'Agordo. E chiaramente è sempre una grande occasione, anche questa, di visibilità, ma poi anche farsi conoscere per cose poi diverse. Sì, ma Canale, come tutti i paesini di montagna, ha la sua storia, le sue caratteristiche, anche la sua bellezza. C'è solo una cosa che mi angustia. Il fatto che sempre più vengono vendute le case e diventano le abitazioni seconde case. Io non ce l'ho su assolutamente, è lungi da me di avere qualcosa contro chi viene da fuori. Sono turisti, fanno investimenti, quindi tutto sommato mantengono anche il patrimonio edilizio del Paese. È la mentalità con cui tante volte queste persone però si approcciano nel momento che diventano, diciamo, cittadini del Paese. Gli ne racconto una. Sabato scorso c'è stata una manifestazione che è divertente, la casparezza, questa marcia, che ha portato quasi 900 persone, quindi crea interesse, anima il Paese. Ci sono questi ragazzi che tutto con il volontariato la organizzano. Non è una cosa semplice organizzare un astuto, che va sempre tutto bene, liscio, la gente è soddisfatta, i partecipanti. Ho ricevuto una mail, molto cattiva, da uno che ha l'abitazione a canale, dicendo che era una manifestazione futile che gli aveva creato del disagio perché non aveva potuto accedere alla sua casa da due giorni. Ecco, vede, queste persone, intanto ha confuso quello che era stata l'ondata di vento che aveva lastricato le strade di ghiaccio, perché era diventato ghiaccio. probabilmente pensava che il fatto di trovare ghiaccio davanti alla casa sua fosse fatto per l'evento della casparenza. Poverino, mi fa anche così, tenerezza. Però ritenere futile quello che gli abitanti, quello che una comunità fa per mantenersi viva, per creare aggregazione, questo mi dispiace. E è un atteggiamento che io parlo anche con altri miei colleghi, che ci sono queste lamentazioni spesso di gente che viene da fuori che vorrebbe trovare il paese tutto in ordine, tutto a loro agio, proprio devono dire trovarsi a loro agio come fossero nel paese del Bengodi e non pensare che ci sono gli abitanti che devono stare là 365 giorni all'anno in un ambiente che sì, molto bello, ma che è duro da vivere e che ha le sue tradizioni, i suoi usi, i suoi costumi e questo un po' mi angustia. Quello è un problema che la montagna deve affrontare e sarà, perché oltre allo spopolamento, e questo sarà uno degli effetti, il fatto che le seconde case non saranno più abitati da residenti e quindi non ci sarà più gente residente e lo spopolamento, ma questo sarebbe niente se chi entra entrasse con questo spirito di dire sì, vivo in un ambiente e sono contento di viverci e voglio partecipare a vivere l'ambiente senza trovare da recriminare se c'è troppa neve perché il comune non è arrivato in tempo a spalare la neve, perché sa, la gente è strana, fa 10 centimetri di neve, se faccio muovere la pala per spalarla trovo chi, e guardi non le racconto una bugia, ha detto ma come spendete soldi pubblici per tirar via 10 centimetri di neve, ma in contemporaneamente trovo altre persone e dicono ma come lasci là i 10 centimetri di neve ed è sempre questo, chi non ci abita trova strano che non ci... il fatto che i miei operai sanno quando devono muovere la pala, ecco, capito. Anche perché i comuni hanno un piano neve, uno non è che si spendi... Hanno l'esperienza di anni di lavoro, noi sappiamo come ci si comporta e questo sempre stuzzicare crea così, fa rimanere male perché chi continua a vivere questi paesi ci mette l'anima per rendere i paesi abitabili, per far sì che siano vivi quelli che sono ancora qua. Anche l'amministrazione cerca di fare di tutto, adesso stiamo lavorando per creare il nuovo distretto, centro del distretto sanitario, stiamo ripristinando la vecchia latteria, la prima latteria d'Italia, la prima latteria cooperativa, trasformandola in quella che può diventare anche una scuola per casari e contemporaneamente adibire delle sale a museo, più che a museo, a biblioteca, per ricordare Don Antonio della Lucia con tutta la raccolta sua di libri che è ponderosa, la viabilità che stiamo migliorando. Quindi, nel momento che facciamo queste cose, le facciamo sì per i residenti, ma ne hanno il beneficio tutti, anche quelli che vengono da fuori, quindi l'adattarsi. Poi è la mia mentalità, se io vado in ferie in un ambiente, se quell'ambiente mi piace, continuo a tornarci, ma non vado a rompere le scatole a chi ci abita, a dire, ma dovrete fare così, dovreste fare con l'A per rendere più confortevole per me. Il mondo è talmente ampio che vado a cercare il posto che mi è confortevole senza andare a rompere le scatole a chi è residente là. Questo è il mio modo di pensare. È già duro vivere in montagna, non ci vuole anche questo oltre. E quindi come c'è scritto sul, se non sbaglio, sul muro della latteria che hai citato prima, applauso alla Concordia. Applauso alla Concordia. Grazie per essere stato con noi, quindi per averci parlato di Canale d'Albord. Grazie a voi, buona serata a tutti. Buona serata, buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.